Il mondo dell'atletica cannavesana visto da un punto molto particolare, quello della realtà che lavora e opera da anni a Rivarolo. Con noi due ospiti molto speciali, la presidentessa Lorena Scaraffia e Stefano Demo, che ci raccontano cosa significa far crescere i giovani nel mondo dell'atletica. E' bello vedere i bambini crescere da noi, mi diverto. Innanzitutto ringrazio la città di Rivarolo per il riconoscimento, mi fa sempre piacere, sono veramente raccoglioso. Ma diciamo che più che sentirne il peso, ne sento un po' anche un onore, oltre che un peso. E per quanto riguarda il peso, è una questione di trasmettere dei valori, più che trasmettere l'atletica. L'appuntamento è giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 21 per il Focus su ON TV Web.